Ha affrontato e vinto per ben due volte una sfida davvero importante quella contro il cancro e ora vorrei essere utile per tutti coloro che vivono la stessa prova che vivono nella stessa situazione Mara Mussoni, come si struttura il percorso di Cancer Coaching? Allora, il percorso si struttura innanzitutto con una prima sessione quindi una prima seduta dove in ogni caso c'è l'ascolto della storia della persona quindi la persona si racconta e io riesco a capire anche un po' il grado di consapevolezza che ha la persona che mi sta parlando dopodiché si stabiliscono un attimino quali sono le priorità in quel momento per quella persona e quindi insomma in base alle priorità poi andiamo a lavorare durante le altre sessioni le altre sessioni possono ovviamente riguardare qualsiasi cosa quindi dinamiche relazionali, alimentazione, attività sportiva, progetti futuri a livello lavorativo cioè tutto quello che la persona in ogni caso è intenzionata a portare avanti Quanto è importante avere l'atteggiamento giusto? 100 Perché? Perché il corpo sente ciò che la mente dice ed è una grande verità cioè noi se abbiamo un atteggiamento mentale possiamo vivere meglio e possiamo in ogni caso affrontare la malattia in maniera diversa Grazie a tutti